Gentili telespettatori, buona giornata. Trena e trena. Cena tra Grillo, Di Maio e Fico. E Conte apre, ma dice, ma restano comunque i miei punti imprescindibili. L'incontro a casa del fondatore, a Marina di Bibbona. Quella casa che, scusate, ma non è in affitto in questo momento, non è stata affittata. Ma, ero rimasto che la casa di Marina di Bibbona era in affitto a ben tra i 12.500 e i 16.500 euro a settimana, per tutta la fase estiva. E c'era il pienone fino a settembre. Pertanto l'incontro a casa di Marina di Bibbona mi sembra un po' strano, però. L'ex premier dice bene la mediazione, ma ribadisce le sue richieste. E così una cena tra i tre, Grillo, Di Maio e Fico. Nella stessa sera in cui Grillo ha sbloccato la situazione di stallo del movimento, nominando i sette saggi. I due big mediatori hanno raggiunto il fondatore di Cinque Stelle nella sua villa di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Un faccia a faccia decisivo. Dopo Grillo, con un post su Facebook, sospende la votazione del direttivo, che avrebbe sancito la rottura definitiva con Conte. Perché Conte dice, se comincia l'iter per eleggere questi cinque, è finito, vado avanti per la mia strada. Come dire, mi faccio il partito, se lo fai mi faccio il partito. E ha nominato appunto i sette arbitri del futuro del movimento, i sette saggi, che di saggi non hanno assolutamente nulla. Una mossa di Grillo che è stata vista positivamente da Giuseppe. Dice, ben venga il tentativo di mediazione per rilanciare il movimento ed evitare scissioni, dice Conte. Ma restino fermi alcuni principi fondamentali, ha detto ai suoi Conte dopo aver appreso la notizia. Lui è favorevole a una riconciliazione. Avrebbe lavorato per trovare una sintesi e per evitare spaccature interne, tenendo però fermi quei principi che aveva espresso in precedenza. Cioè, il mezzo leader non lo vuole fare, il portaborse, il prestanome, l'imbianchino di casa senza aver ristrutturato. E così comincia questa mediazione. E c'è stato un incontro con un appello da parte di 19 senatori del Movimento 5 Stelle, compreso Toninelli, Catalfo, che rinchiama all'unità e alla ricomposizione. Lo stesso Gigino, di Maio, intervenendo al convegno organizzato da Alice a Sorrento, ha dichiarato «è un momento particolarmente delicato, proprio per questo si deve parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune». Dopo la pubblicazione del post che annunciava la nomina dei sette saggi, Francesco Berti, deputato, ha twittato «ottima l'iniziativa di Beppe Grillo» per cercare una mediazione con Giuseppe Conte, coinvolgendo i portavoce. Unire e non dividere. Non abbiamo bisogno di nuovi partiti o scissioni, ma di spirito di comunità. Ma ai grillini va bene anche un partito. L'importante è che tolgano il vincolo del secondo mandato e loro siano rieleggibili, perché hanno capito che se i partiti divisi vanno a diventare partiti da 5%, poi i posti sono un po' pochini da dividersi. Pertanto è meglio un partito solo con Conte, però che Conte, con libertà assoluta di fare il capo politico, tolga il vincolo di secondo mandato che farebbe diventare questo vincolo disoccupati almeno 100 deputati del Movimento 5 Stelle, proprio non più rieleggibili nel Movimento. E poi chi se li carica? Nessuno, ovviamente. Se fino a ieri i membri del Movimento si schieravano con il garante o l'ex premier, la mossa di Grillo sembra aver ricomposto lo squarcio che rischiava di creare due correnti all'interno del Movimento. Non ho condiviso la posizione, ma soprattutto i toni espressi pochi giorni fa sul blog. E ho sottolineato la centralità e l'importantissimo valore aggiunto rappresentato dalla figura di Giuseppe Conte nel nuovo percorso che il Movimento deve intraprendere. Scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Il nostro Movimento ha sempre trovato nell'unità la sua più grande forza. Parole vuote, nel senso il nostro Movimento ha trovato nell'unità la sua più grande forza. Forse quando dice che nell'unità ha trovato la sua grande forza, nel senso che i grillini si difendono fra di loro, c'è qualcuno indagato, c'è qualcosa, non so chi falsifica la tesi, chi copia la tesi, chi gonfia il curriculum, chi combina qualcosa tutti zitti. Questa cos'è? L'unità? La più grande forza del Movimento? Quando la Raggi non riesce a governare Roma tutti zitti? E questa l'unità? Ci uniamo contro l'evidenza più totale? Beh, chiamarla l'unità, quell'unità lì che vi ho appena raccontato, serve solo a difendere il movimento dall'esterno, però non certo a fare del bene al paese, eccetera, eccetera, nascondendo le magagne sotto il tappeto, sotto questa trovata unità che è la nostra più grande forza. Si è vista quest'unità, come vi raccontavo, nel tempo, chi comunque aveva dei problemi nel Movimento 5 Stelle tutti zitti. Quando si parla di altri tutti addosso negli altri partiti, ma dentro il Movimento 5 Stelle tutti zitti, silenzio, ci ascoltano. Bene, vedremo quello che succederà. Come faranno a trovare un punto di incontro tra Grillo e Conte? Grillo che vuole essere il garante come prima e Conte che dice io devo essere come Salvini e Meloni, un capo politico vero, non posso essere il Tajani del Movimento 5 Stelle. Vedremo realmente come andrà a finire tra questi litiganti, perché tra questi litiganti, chi se la ride, sono quelli del centro-destra, Salvini, Berlusconi e Meloni, sul divano con i pop-corn e dire come una partita di tennis, cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto? No, no, ripetimelo, cos'è? Dimmi esattamente cosa ha detto. E si fanno quattro risate crasse. Dimmi esattamente cosa ha detto perché un teatrino del genere si erano viste cose comunque in politica, negli anni ci sono stati problemi di tutti i tipi, ma un teatrino di questo tipo non si era mai visto. Perché questo è il primo partito italiano, perché ha vinto le elezioni nel 2018, è il primo partito italiano. Non hanno un capo politico, hanno un comico, il Giuseppi che vuole portare via il partito al comico, i grillini politici che pensano solo a come salvare lo stipendio. Veramente questo che stiamo vedendo non era mai successo. Purtroppo ci è toccato vedere anche la politica a che livello è arrivato. Livello bassissimo, bassissimo. Politici da stimare ce ne sono veramente pochi. Veramente, veramente pochi. Si contano su qualche dita di una mano, su qualche dita di una mano. Per il resto è solo noia, incompetenza, pressapochismo, persone sempliciotte. Veramente, che triste vedere l'Italia arrivata a questo livello. Veramente, veramente triste. Però, questa è la realtà. Bisogna farsene una ragione. E alle prossime elezioni cercare di votare meglio. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.